Un caro saluto dal Jim Morrison italiano o dal mogol del nuovo millennio o ancora dal Giuseppe Ungaretti del 2000. Like per Vincent Lionheart. Piegarsi al sistema significa raggiunger la cima ma tempo al tempo e ci sarà lo schianto al suolo senza lasciar alcun miracolo. Avete capito artisti venduti al sistema?